Per non dimenticare Francesca Mansi, la ragazza che esattamente un anno fa ha perso la vita a causa dell'alluvione del 9 settembre che devastò il centro storico di Atrani, la comunità diocesana di Amalfi, Cava di Tirreni ed il comune di Atrani hanno ritenuto opportuno che lo svolgimento della sesta giornata per la salvaguardia del creato, celebrata dalla CEI il primo settembre di ogni anno, cadesse proprio nel primo anniversario della tragedia. Per la comunità diocesana la scelta è stata pressoché naturale poiché l'anno appena trascorso ha visto rinnovarsi l'impegno della chiesa locale in merito alle tematiche della salvaguardia del territorio, dello sviluppo sostenibile, della cultura, della legalità e della riduzione degli sprechi. Il 9 settembre il borgo di Atrani vedrà il confluire di rappresentanze istituzionali e religiose di tutto il territorio diocesano. Vi sarà un primo raduno in piazza alle 17.30 di cui si snoderà il corteo che sosterrà presso Largo Padre Pio per la benedizione di una targa commemorativa e la piantumazione di un mandorlo scelto a simboleggiare e rinnovarsi della vita. Prima di raggiungere la spiaggia per la celebrazione della Santa Messa preseduta dall'arcivescovo si terrà un minuto di silenzio nel ricordare la scomparsa di Francesca Manzi a cui seguirà il lancio di centinaia di palloncini che vogliono rappresentare una sorta di messaggio che seppur rivolto a lei dovrà essere di monito per tutti coloro che intendono fare del suo ricordo un impegno incessante nella custodia dei nostri luoghi.